Io vorrei fare un back to basic, oggi si parla sempre di digitale, digitale, nuovi canali, però i ferri del mestiere bisogna saperli manovrare, bisogna sempre averli in tasca. Ecco perché ho pensato di iniziare velocissimamente, già il professore ha accennato alcuni di questi temi. Il carosello, 1958, linguaggio monodirezionale era il prodotto che si doveva presentare, era il prodotto e c'era fame di soddisfazione di nuovi bisogni e quindi linguaggio monomediale la gente comprava quello che gli veniva detto. Negli anni crescono i canali, il rapporto fra brand e pubblico si moltiplica e incomincia a essere bidirezionale. Vado velocissimo che sono cose scontate, era giusto per fare la premessa e poi arriva questo benedetto digitale. Io ho avuto la fortuna di partire lavorando nel largo consumo, quindi dai detersivi in giù per poi passare a fare tre start up nel mondo finanziario partendo da internet. La prima nel 98 e vi assicuro che pensare di vendere una polizza assicurativa via internet nel 98 era veramente l'anteguerra, sembrava di essere nei Flintstone. È stata veramente un'opera di marketing importante, nel senso che bisognava partire veramente da nuove modalità distributive. Ma il digitale, e ce l'ha dimostrato anche il professore con alcuni aneddoti simpatici, ha portato un nuovo stile di vita, ha pervaso completamente la nostra vita. Tant'è che oggi il brand parla sia al consumatore, però il consumatore parla, come vedete, dieci volte del brand più di quanto faccia il brand con il consumatore stesso. Quindi a maggior ragione è importante che il brand sia forte. Visto che il titolo, io non voglio discutere il titolo, per me conta il marketing, che marketing per me vuol dire fare impresa. Punto. Perché vuol dire fare impresa? Perché in un mondo che sta cambiando molto velocemente, non è la specie più intelligente e neanche quella più forte che sopravvive, ma è quella che si adegua meglio al cambiamento. E per adeguarsi meglio al cambiamento è importante che si abbiano le idee chiare di che cosa vuol dire fare marketing. Ho iniziato anch'io nel 90 a lavorare dopo la cattolica, non ci siamo mai incrociati nei chiostri, ma in tutte le aziende in cui sono stato, sono alla settima, non so se mi fermerò qui, o forse sì, si è sempre confuso spesso nei vari reparti il marketing, sono quelli che fanno gli eventi, quelli che ordenano i panettoni, vedo che qualcuno mi guarda e sorride, sono quelli che fanno la pubblicità, ebbene no, il marketing vuol dire fare impresa, to market dall'inglese, cercare di commercializzare qualcosa. E quindi qual è il ruolo del marketing? Il ruolo del marketing è sempre e soltanto solo questo, guadagnarsi la fiducia del prossimo. La fiducia è il vero driver di consumo, punto. Poi ci sono i canali distributivi, posso dire, chi se ne frega, i canali distributivi si utilizzano in funzione delle loro peculiarità, ma quello che conta sono, come accennava Luca Papperini poco fa, le solite, vecchie, care 4P di Filippo Kotler, perché alla fine bisogna lavorare in primis sul prodotto, bisogna avere molto chiaro che genere di prodotto mettere in piedi perché possa avere successo e soddisfare i fabbisogni e il target che decidiamo di raggiungere. Va apprezzato bene, puoi avere il miglior prodotto del mondo, ma se lo apprezzi male o se non gli dai l'adeguato value for money, hai già perso la partita. Devi decidere i canali distributivi, adesso c'è anche il digitale, negli anni 70 non c'era la GDO, è arrivata la GDO, però la pasta barilla è sempre quella, la mia mamma invece che andare nel negozietto sotto casa, ha scoperto che c'era quel grande luogo magico dove poteva andare in giro col suo bel carrello. E poi arriva finalmente l'attività promozionale, la pubblicità in genere, che è quella che poi porta anche qui a un classico modello teorico, però sempre valido, la generazione di notorietà. Quindi quando io ho creato tutto il mio pacchetto prodotto prezzo, ho deciso i canali, ho deciso come comunicare il mio prodotto, la prima cosa devo generare notorietà, devo suscitare dell'interesse, creare desiderio e fare in modo che la gente metta la merce nel carrello in maniera teorica. Però, quindi, fino qua tutto bene. E poi cos'è successo? Qui l'abbiamo chiamata la svolta, forse in maniera esagerata, però se pensiamo che il digitale ha rivoluzionato i nostri stili di vita, al posto della sveglia sul comodino c'è abbiamo lo smartphone, io c'ho ancora la sveglia, però con le vecchie di una volta funzionano benissimo. Il consumatore ormai ha soddisfatto tutti i propri bisogni e quindi non compra più solo prodotti, ma compra anche dei telefoni con delle bellissime suonerie, no? E quindi compra anche qualcosa in più. Ormai lo sappiamo, la crisi dei consumi, la verità che probabilmente abbiamo consumato talmente tanto, abbiamo le case talmente piene di cose che quando compriamo anche la cosa più banale cerchiamo un'esperienza che ci dia qualcosa in più. Il consumatore effettivamente non compra più solo prodotti, è esperienziale, è un po' tutto. Per iperbole possiamo dire che nessuno compra una Ferrari per risolversi il problema della mobilità. Nelle nostre città ci sono più 4x4 che in qualsiasi campagna, è pazzesco. Ci serve il 4x4 per andare in giro nel centro di Milano? No. Per muoversi basterebbe una qualsiasi auto che abbia motricità. E però ci servono queste cose per cercare di soddisfare dei bisogni che vanno al di là di quei bisogni primari che hanno contraddistinto la prima è epoca del marketing, dagli anni 60 in poi. Ecco perché qui entrano in gioco le 4M, perché qui i comportamenti di consumo fanno in modo che anche il prodotto assuma delle caratteristiche diverse. Oggi siamo sempre più multiscreen, è già stato detto, multichannel, chi fa marketing lo sa, ormai anche nelle pianificazioni. Quando incontriamo Publitalia, quando incontriamo Cipra, si parla di pianificare il second screen o il third screen. Pazzesco. È diventato un lavoro incredibile anche quello del media planner. Una volta c'erano quei bei 6 canali lì, decidevi il budget, se il prodotto era ben assettato e ben prezzato il sell out lo facevi. Oggi non basta più neanche quello. Anche perché i canali sono talmente tanti che a prescindere dal budget che hai, o hai 200 milioni di euro oggi, neanche più le telecom ci possono permettere di coprire tutto con le soglie di GRP di 10 anni fa. È importante anche scegliere il canale giusto nella fascia oraria giusta e quando c'è la predisposizione giusta di quel signore che sta sul divano e ha davanti la tv, il tablet e intanto chatta con lo smartphone e magari deve dar retta a moglie e figli. È un bel mestiere. Ecco perché Darwin ci deve insegnare che non basta quello che abbiamo fatto prima. Dovevamo veramente essere capaci di evolvere con molta flessibilità. Multitasking, l'ho appena detto, facciamo sempre 27 cose insieme. Venivo prima in macchina, c'è gente che ormai i semafori sta lì un quarto d'ora. Perché ora che risponde al telefono, intanto guarda l'iPad e sfoglia il corriere, è un disastro. Perché? Anche perché siamo sempre in mobilità. Caspita, bella sfida, no? Sta cambiando velocissimamente il mondo, anche perché tutta questa roba qui vuol dire entropia informativa a livelli massimi. Pensate che negli ultimi dieci anni il sistema informativo mondiale ha prodotto più informazione che nei precedenti 5.000 anni. Tant'è, questa è una cosa che ho letto poco tempo fa, simpaticissima, una coppia domenicale del New York Times contiene più informazioni di quelle che poteva affrontare e gestire una persona della classe media nel Settecento nel totale arco di una vita. Pensate quante suggestioni ci abbiamo. Ed è vero, no? Siamo veramente bombardati di prodotti, informazioni, pubblicità. Diventa veramente difficile creare il giusto cocktail. Gli strumenti li abbiamo tutti. Bisogna saperli gestire. Io sono straconvinto che non esistono varie forme di marketing. In questi anni ne abbiamo sentite di tutti i colori, no? Il guerriglia marketing, lo street marketing, adesso c'è il digital marketing, è il mobile marketing, esiste solo il marketing. O uno è capace di fare impresa o non è capace di fare impresa. Punto. Bisogna saper gestire quelle quattro leve che sono la base per fare impresa. Un bravo imprenditore è già di per sé un bravissimo uomo di marketing, perché altrimenti non sarebbe un imprenditore di successo. È molto importante però, e qui mi riallaccio, non ci siamo messi d'accordo, gestire molto bene la multicanalità. Perché la multicanalità oggi vuol dire mettere il digitale al mezzo perché sia un integratore di mezzi. Perché alla fine il confine fra esperienza reale ed esperienza digitale è labile. Pensate agli ultimi dati del Politecnico della settimana scorsa, dicono che nel 41% dei casi il consumatore controlla lo smartphone all'interno del punto vendita e fa confronti prezzo. Quindi vuol dire che anche qui l'esperienza fra digitale e reale ormai è un tutt'uno. È molto labile il confine. Anche perché ormai stanno cambiando pesantemente i meccanismi attenzionali, no? Per tutto quello che ci siamo detti prima. Il budget time dell'esposizione multimediale è in aumento. Pensate che 15 milioni di italiani oggi navigano via mobile, solo 13 via pc e navigano su mobile per più di 90 minuti al giorno. È tanto, è 90 minuti. Nel mentre che facciamo tante altre cose. Quindi anche qui dobbiamo riuscire a cogliere l'attenzione nel momento in cui sta facendo un sacco di cose in contemporanea. I modelli sociodemografici non ci bastano più per fare marketing. Oggi con in mano uno smartphone abbiamo azzerato la distanza fra Vipiteno e Pacchino. Oggi un ragazzo di 16 anni, potrebbe essere il figlio di Giovanni, che sia a Vipiteno o che sia a Palermo, sta vivendo la stessa esperienza mediale con lo smartphone. E poi ciò che conta è la qualità. Bisogna andare oltre l'audience, anche nella pianificazione di marketing. Oggi non contano più i soliti vecchi GRP, che poi alla fine questo algoritmo fra copertura e frequenza che andava bene negli anni 80. Oggi devi esporre il tuo messaggio nella maniera adeguata, nel momento più opportuno. Non conta più quanta frequenza fai. Conta esserci nel momento opportuno in funzione del target che hai definito sia utile per te. E poi per concludere, credo di aver risparmiato quasi dieci minuti, attenzione alla tecnologia. La tecnologia deve essere funzionale alle idee. È fondamentale la tecnologia. La tecnologia fa parte del nostro progresso. Però deve essere al servizio delle idee. I piani di marketing non possono essere fatti da un direttore IT. Per carità, bravissimo, no? Però è qualsiasi tipo di tecnologia, qualsiasi tipo di strumento innovativo venga messo a disposizione, deve essere shakerato all'interno di un cocktail ben definito e ben dosato. E quindi la cosa che conta di più è la tecnologia al servizio dell'immaginazione e della creatività. Ma attenzione, anche qui la creatività non è una cosa così, che nasce da sola. C'era qualcuno che diceva che la creatività è ostinato rigore e immaginazione efficace. Soffermiamoci l'ultimo minuto sulle due espressioni di ostinato rigore. Vuol dire sacrificio, sudore intellettuale e non solo. Vuol dire voglia di fare, vuol dire voglia di mettersi in gioco, vuol dire avere in mano gli strumenti del lavoro. Per chi fa marketing è saper gestire le quattro leve che abbiamo citato all'inizio, shakerarle con i nuovi comportamenti di consumo e sociologici che ci stiamo affrontando. Per chi fa marketing è un momento fantastico, stiamo vivendo la più grande rivoluzione socioculturale di sempre. Quello che sta succedendo in quei vent'anni qua non è mai successo nei ventimila anni precedenti. Certo che è difficile, però con le armi del mestiere e con la flessibilità e la capacità di evolversi si può andare oltre. E l'ultimo pezzo, immaginazione efficace. Efficace vuol dire, se prendete il devoto oli, adatto allo scopo. Punto. Non c'è la pubblicità o il prodotto geniale di per sé. Deve essere adatto al modello di business e agli obiettivi di business che l'azienda si è data. Grazie. Alla prossima.